allora cucina mattina la sera no cucina soprattutto la domenica quando c'è mio figlio c'è mia nuori i miei nipotini oggi cosa ci porti ho fatto i tortelli della domenica perché sono un po pesanti ma oggi non è domenica che facciamo bene assaggiate appena appena ok e dentro i tortelli che cosa c'è c'è la patata la pancetta e il parmigiano e fuori burro e pancetta la bernese la sa fare perché è romagnolo un cucchiaio no che dopo sono da lavare ragazzi e si può dire niente la oriana tortelli della domenica e adesso come la mettiamo assaggiamo poi se va piace bene se no facciamo i tortellini dimmi una roba perché sei venuta qua per la tradizione perché voi fate tutte cose che la gente normale non le capisce non le mangia va bene dai però sei simpatica comunque grazie è una signora schietta sì che sa cucinare quello che mi preoccupa un po è che qui bisogna sapere fare tantissime cose non ho capito perché sì o no per me sì edil grazie per me o no è già tanto arrivare qui per me mai darsi dei limiti ma mai mai voglio vedere anche se riesce a spingersi un pochino oltre la tradizione per cui per me è un sì la vedo emozionata adesso sì no 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 si è emozionata ti sono emozionata oh non si emozioni benvenuta grazie grazie